Incidenza dei positivi in Sicilia all'1,9%. Nuova ordinanza di musumeci, mascherina nei luoghi pubblici affollati e tampone obbligatorio per arrivi da Germania e Regno Unito. Sono 501 i nuovi casi di Covid in Sicilia, a fronte di 26.376 tamponi processati. L'incidenza all'1,9%. La Regione è all'ottavo posto per nuovi contagi giornalieri in Italia. Gli attuali positivi sono 9.734, con un aumento di 121 rispetto al precedente report. I guariti sono 385. Le vittime sono state 9, per un totale dei decessi a 7.125. Negli ospedali ricoverati sono 388, 6 in meno, e quelli in terapia intensiva sono stabili a 43. Ecco la distribuzione dei nuovi casi tra le province. Palermo 74, Catania 153, Messina 133, Siracusa 42, Ragusa 21, Trapani 35, Caltanissetta 11, Angri 130, Enna 16. E dalla Sicilia emergono alla ribalta nazionale due esempi virtuosi di adesione alla campagna vaccinale. Si tratta dei comuni di Palazzo Adriano, in provincia di Palermo, e di Rocca Fiorita, nel Messinese, dove le somministrazioni di vaccino hanno superato la soglia massima del 100%. E i due paesi sono da tre mesi covid-free. In particolare, Palazzo Adriano, noto come il paese del set del film Nuovo Cinema Paradiso, di Giuseppe Tornatore, ha raggiunto quota 104%, mentre Rocca Fiorita è il 117%. Il superamento del tetto massimo del 100% è avvenuto a seguito degli utenti arrivati da cittadine limitrofe, turisti di passaggio e coloro che, pur essendo residenti altrove, hanno deciso di vaccinarsi a Palazzo Adriano e a Rocca Fiorita. A fronte di ciò, come rovescio della medaglia, si registrano tre comuni che sono ancora in zona arancione, a causa del diffondersi dei contagi e del basso numero di vaccinazioni, ovvero Limina e Monforte San Giorgio nel Messinese e Nicolosi in provincia di Catania. E al fine di contenere e attenuare l'impatto della quarta ondata e soprattutto per evitare di importare le virus da paesi esteri alle prese con una violenta recrudescenza della pandemia, in Sicilia è stato introdotto l'obbligo, dai 12 anni in su, di portare la mascherina sempre con sé e di indossarla anche in tutti i luoghi aperti al pubblico, particolarmente affollati. E quanto prevede una nuova ordinanza del presidente della regione Nello Musumeci, i provvedimenti sono in vigore da oggi fino al 31 dicembre. Dovranno sottoporsi al tampone obbligatorio nei porti e aeroporti siciliani anche i viaggiatori che arrivano dalla Germania e dal Regno Unito. Attualmente il controllo è già previsto per chi proviene o vi abbia transitato nei 14 giorni precedenti da Stati Uniti, Malta, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Olanda. Grazie a tutti.